con sole agri food la rassegna dell'agroalimentare di qualità la fiera di verona diventa un punto di riferimento internazionale non solo per il vino ma anche per l'olio extravergine per la artigianale e per questa ventisettesima edizione anche per il sidro quasi 300 espositori provenienti da tutte le regioni italiane e dall'estero per mettere al centro l'eccellenza della produzione legata alla territorialità il comparto olivico l'oleario vale 12 miliardi di euro nell'area mediterranea nutrita la presenza di birrifici un settore in forte sviluppo che vuole valorizzare la propria artigianalità ritrovarsi confrontarsi scendere anche nei più piccoli dei particolari perché io credo che soltanto attraverso il confronto il lavorare spalla spalla gomito a gomito anche con le organizzazioni di settore si possa creare quel percorso virtuoso che porti a costruire sempre meglio una realtà di qualità e soprattutto di prospettiva economica ed occupazionale che è tutta tipica italiana tra l'altro il tema al centro del convegno inaugurale di sole agri food è stata la sostenibilità intesa come occasione di business e garanzia per il made in italy ampio spazio anche per il biologico con la rassegna b open e per l'export entrambi trainanti per l'agro alimentare del futuro spazio anche per l'agro spazio anche per l'agro